Archevi una partita, qua andammo verso Arche e Tiger, siamo tutto starato Ma andiamo, amiche, fra Archevi non ci vado mai, andiamo a dire Eh no, andiamo L'hanno fatto vedere un sacco di gente Ma tu sai perché se spara? Ma guarda, sul, sul monte, sul monte Ma lui non ha attaccato, se no Lo vedo in difficoltà Sono dentro il tunnel Sì, sì, sì Ma che miro scioglio? Ok, fuori Sopra, 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 sopra c'è un team intero per il blocco Sopra Fran Ma guarda, ma come scioglie Sopra, sopra c'è un'altra Ma che ce l'hai da oro? C'è un gioco Mamma mia, magari Vabbè, io quanto stavo con il mio lavoro Spotta, spotta Capite la mappa, guarda dove sono? Tutti sul verde Sottotit dal raptor, su tutti il raptor In cui she Get Armored Sopra, sopra tu, festa? Ok Ok Okay Ok, questo numero di là Ah è, scusa Ok, ma trova io il tavolo del quadro C'è, vieni, vieni, c'è un'altra bomba per te, un drone C'ho due kill, sei altro, regà, c'è un power up, che è a nord-end Sì, ragazzi, tiene Sì, no, questa lobby è bella, c'è tanta scelta Sì, ma ci sono troppi, troppa gente che spara, troppa gente che... C'hai un buon feeling, eh, lo so Ah sì, io ti direi che potrei rispondere come fa una certa persona No, 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 guarda, io vestito il salvo lì Salvo, Magnete, Mina e Atrax, frate, è finita Sì, se c'hanno questo set, proprio Sette camperci Con la tenda da campeggio inclusa Anzi, citavo per intere Sì, stavo per la scena, è lì dentro, sta bene, va Arrivo, eh Ma no, ma sono agguerriti, avessi Ti piace il commodo al massimo, però Ah, frani, ma c'è che usi ancora il pad-scarf? No, mi sei rotto, fra Ah, 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 ok Che c'è sta l'acqua Ma lei ha cerchionato con le indirizioni, mi è piaciuta Mamma mia, che spettacolo Ma faccio cagare, faccia un ridicolo Dai, raga, 3T Cazzo sto giocando Magari levano limite Le valono limite Limite squad ma qua che cornuto, che cornuto, che cornuto che è, mamma mia, 40 e il bull che non l'ho ucciso bella partita, cioè 3-0, 0 assist, 0, qui c'è qualcosa che non va, però, eh io avrei 10 kill, cioè, Cristo, ma in squadra c'abbiamo Arsenio Lupin, Frank